Sì, non era scontata questa partita, avevo messo in guardia le ragazze e soprattutto avevo chiesto un atteggiamento sin dall'inizio, è deciso perché non era una partita facile e sono state veramente brave a fare alla lettera quello che abbiamo preparato durante la settimana e questo risultato è una grandissima vittoria contro una squadra ben organizzata che ha messo in difficoltà anche parecchie altre squadre e siamo felici di continuare su questa strada. Sì, abbiamo recuperato anche qualche giocatrici che da un po' di tempo non giocavano, Ali è una di queste dove è stata ferma tre mesi, Pondini ha giocato mezz'ora, Ferrato che rientra dal crociato oggi ha fatto dieci minuti, quindi sono tutte giocatrici che noi facevamo molto affidamento e che contiamo di recuperarne altre due o tre che abbiamo fuori, vedi Parisi, vedi Fuentes, vedi Giorgio, quindi sono tutte giocatrici che all'inizio dell'anno per noi erano fondamentali. Le cose sono andate bene lo stesso grazie a queste splendide ragazze che hanno fatto quadrato e ci hanno insegnato che questo percorso è un percorso molto importante, è un percorso che tutte le giocatrici vorrebbero fare. Come hai detto te, continuavano a lottare, volevano divertirsi, volevano fare più gole, e questo non accontentarsi non vuol dire essere presuntuosi, ma vuol dire voler raggiungere un obiettivo tutti insieme e questo è molto importante per un gruppo. Sì, abbiamo recuperato due punti, come ho detto la settimana scorsa dopo la sconfitta con la Juventus, che noi dobbiamo fare queste quattro partite, dobbiamo cercare di fare 12 punti, poi se gli altri sono più bravi di noi, tanto di cappello, però oggi già tre punti importanti, la settimana prossima col Bari sarà un'altra finale per noi, quindi se l'atteggiamento è questo, io sono ben felice, nel senso che le ragazze hanno interpretato nel migliore dei modi, poi ripeto, se il Milan sarà più forte di noi, più bravo di noi, arriverà davanti, però la cosa importante è che noi facciamo vedere che ci proviamo sempre. Ovviamente sono felice, sono felice per me e per la squadra, per le tre punti e la nostra prestazione, e ovviamente anche felice per me 10 gol. Io dedico il mio gol per la mia famiglia, perché loro sono sempre vicino a me, vicino al mio cuore. Secondo me noi abbiamo una prestazione buona, ovviamente non è partita facile, però adesso è importante che noi continuare avanti così. Questa stagione è importante per me ovviamente, non è facile perché ovviamente è il mio primo fuori di Malta, però sono carica per più e sono felice per tutta stagione, però adesso è importante che noi abbiamo continua così. Grazie. Grazie.